La giustizialista, sovinista e comunista della Federazione Unita dei Pianeti Si contenga Pianello e si ricordi tutti i miliardi che le dà lo stick per venire qui a presentare 5 centesimi, guardi, prendo solo Vabbè, 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 ok Cioè, allora, a questo punto, niente Non prendo, non prendo, non vi date neanche una lira Comunque, era semplicemente per dimostrare che noi fin dagli asili, fin dall'asilo Educhiamo i nostri figli